Ciao ragazzi, bevete? Vi ci vedete? Poi ci siamo su Forza e vi occorrebbe un video così e allora mi sta anche il primo lago di Sicilia ma non è vero che vorrei sempre andare e poi mi sa bene non c'è un caricato perché è la tua sim non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.